Ciao a tutti ragazzi sono Stefano Castiello e benvenuti anche oggi in un nuovo video voglio assolutamente parlarvi di quello che è successo nelle ultime ore nel mondo cripto perché ieri addirittura abbiamo visto Bitcoin quasi su 24.000 dollari nonostante era domenica anche la maggior parte delle altcoins ha messo qualche percentuale positiva però in questo momento stiamo assistendo ad una piccola correzione e ci sta anche voglio parlarvi di quello che succederà nei prossimi giorni, di cosa mi aspetto quindi adesso iniziamo subito e voglio parlarvi anche di questa mail che mi è stata inviata lui mi è scritto per quanto riguarda Crypto.com ringrazio tanto questo mio iscritto che mi ha specificato questa cosa perché in pratica hanno cambiato l'Iban dove inviare i soldi sull'applicazione quindi chi utilizza l'Iban vecchio potrebbe avere dei problemi ne parlo tra poco, adesso iniziamo subito prima di iniziare ragazzi come al solito un mi piace per supportarmi basta un clic e il gioco è fatto e se non siete iscritti iscrivetevi assolutamente al canale ora iniziamo subito per quanto riguarda i prezzi vi ho detto che Bitcoin in questo momento è sui 23.600 abbiamo toccato ieri addirittura i 23.985-970 all'incirca quindi siamo arrivati quasi su una zona di resistenza davvero importante in questo momento vediamo una piccola correzione qui ma ci sta tutto a vedere questa piccola correzione è normale, non possiamo salire sempre in questo modo diritto bisogna anche correggere, tornare su supporti, rimbalzare quindi in questo video ne parliamo subito però vi ho scritto su Twitter stamattina buongiorno Bitcoin questa è una settimana molto importante con la bandiera degli Stati Uniti perché ci sarà il rialzo le tasse di interesse mercoledì cioè il primo febbraio la maggior parte degli analisti pensa che ci sia un rialzo le tasse di interesse dei 25 punti base cosa penso io? Penso che tornando un po' al gergo cripto le persone hanno acquistato ascoltando i rumors e venderanno con la news con la notizia del rialzo le tasse di interesse si dice buy the rumors, sell the news quindi mi aspetto che potrebbe succedere attenzione che i mercati diciamo correggeranno durante l'FOMC poi ci sarà anche il discorso di Powell se il discorso di Powell sarà un po' più dovish non hawkish quindi un po' più bullish se deciderà di fare un discorso non troppo diciamo orientato sul rialzo dei tasse di interesse per il futuro potremo vedere assistere poi successivamente un'altra salita dei mercati però fin quando verranno annunciati i tassi di interesse mi aspetto una piccola correzione perché come dicevo prima secondo me la maggior parte dei mercati delle persone sta già scontando questo atterraggio un po' più morbido della Fed in questo primo FOMC di febbraio del 2023 scusatemi quindi ieri che era domenica quindi i mercati tradizionali erano chiusi bitcoin ha messo un 4% così all'improvviso che tanto considerando che i mercati ripeto erano chiusi in questo video voglio parlarvi anche del prezzo di cro però voglio un attimo passare a questa notizia da parte di crypto.com perché già ve ne ho parlato nei video precedenti però secondo me non tutti hanno capito cosa intendevo cioè in pratica ti contatto per segnalare che ho letto alcuni commenti per quanto riguarda la migrazione della banca dell'exchange ma non tutti gli utenti hanno ricevuto ho letto la mail che parlava del nuovo codice IBAN e leggendo poi vari feedback ci sono stati dei disagi con i bonifici perché molti hanno versato i soldi nell'IBAN vecchio quindi tantissime persone mi stanno contattando dicendo Stefano io ho fatto un versamento non mi sono arrivati i soldi questo perché è successo? perché il codice IBAN dell'exchange è cambiato quindi ragazzi attenzione assolutamente a controllare l'IBAN che succede se inviate soldi al vecchio IBAN? per adesso non sta succedendo nulla in particolare però ovviamente potrebbero esserci dei problemi in futuro perché questi soldi vengono inviati indietro alle persone quindi dopo 4-5 giorni i soldi vengono ridati però lo stesso vi dico di stare attenti e di guardare qual è l'IBAN aggiornato e di non commettere nessun errore perché in futuro potrebbero poi non darvi più soldi giustamente se inviate soldi a un IBAN che non è più valido detto questo ragazzi passiamo un secondo a questa notizia perché è molto importante il Bitcoin Fearing with Index è a livello 61 ragazzi 61 siamo in avidità grid quindi questo potrebbe essere un buon segno e se prendiamo anche ad esempio il grafico questo qui è il grafico mensile si vediamo una salita esponenziale del Bitcoin il Fearing with Index quindi questo potrebbe essere positivo per tutto il 2023 speriamo che sia un trend così in salita e se prendiamo anche il grafico ovviamente annuale non vediamo questo livello da marzo 2022 poi abbiamo visto un declino per quello che è successo con Luna poi FTX, TutVoyager e tutte le altre piattaforme però pian piano il mondo cripto pare si stia riprendendo e per questo dovete distruggere il tasto del mi piace per supportarmi così questi video girano e più persone possibili vedono questi contenuti e soprattutto riescono a investire al momento giusto non quando i prezzi sono troppo alti detto questo ancora ragazzi voglio parlarvi un secondo del prezzo di CRO perché ieri se prendiamo il grafico giornaliero vediamo che ha messo una candida interessante però siamo rimasti sempre in questo triangolo diciamo ascendente ha messo un più 3% che è stato già rimangiato con la candida giornaliera di oggi e infatti siamo sempre ripeto in questo triangolo ascendente stiamo creando in questo caso massimi crescenti anche minimi crescenti andandoci a stringere in questo apex qui e quindi arrivati in quest'apice potremo assistere ripeto a una rottura e questa rottura di solito con questi ascending triangles potrebbe avvenire verso il basso quindi il target potrebbe essere diciamo una cosa del genere facciamo da qui il target potrebbero essere intorno agli 0.06 per il prezzo di CRO se rompiamo verso il basso ovviamente se rompiamo verso l'alto perché c'è ancora una percentuale di positività di questo ascending triangle potremmo raggiungere gli 0.09 gli 0.10 che sto ormai chiamando da moltissimo tempo che è una resistenza davvero molto importante da monitorare la cosa che mi preoccupa sul prezzo di CRO sono i volumi che non sono molto diciamo interessanti come sono stati in questi giorni vediamo che il trend è in discesa dei volumi quindi questo potrebbe significare una debolezza del mercato io come al solito vi aggiorno sempre ragazzi e guardiamo anche la Bitcoin Dominance perché anche questa è importante sul grafico weekly la Bitcoin Dominance sta avendo un rimbalzo abbastanza marcato e questo potrebbe significare che comunque il prezzo di Bitcoin potrebbe essere più forte rispetto a quello delle altcoins e infatti vediamo che Bitcoin in questo momento perde uno 0.81% invece di Ethereum e le altre cripto sono perdendo 1.52 un 2% un 3% quasi quindi anche da considerare la market cap di Bitcoin per capire il prezzo dove è diretto e prima o poi ragazzi visto che comunque Ethereum sta sotto performando Bitcoin mi aspetto in questi giorni che potrebbe esserci una risalita ha detto questo ragazzi hanno appena introdotto su BitGet la strategy copy trading che permette di seguire una strategia ben precisa che possiamo visualizzare ad esempio qui ci sono le strategie per profitto ci sono poi le strategie per followers cioè quante persone seguono questa strategia ed è molto interessante perché possiamo vedere quanto hanno guadagnato queste persone seguendo ad esempio Galen qui qui stiamo parlando un profit and loss di 4.442 dollari molto esponenziale rischioso e quindi potrebbe essere questo un buon modo per investire una piccola parte del capitale possiamo anche seguire queste strategie con soli 30 dollari 30 USDT o qui il minimo è 300 USDT qui 50 USDT quindi possiamo un po' guardare diciamo dare un'occhiata a queste statistiche e poi decidere dove investire o meno come al solito il link per registrarvi a BitGet è qui in basso in descrizione di questo video avete il 5% di sconto sulle fees per sempre solo tramite il mio link e soprattutto fino a 5.000 dollari di bonus depositando che non è per niente male come al solito dategli assolutamente un'occhiata detto questo ragazzi grazie mille a tutti per la visione di questo video se mai domani dovesse esserci un cambiamento importante ci aggiorniamo però sicuramente attenzione a mercoledì che sarebbe il primo febbraio perché alle 8 italiane ci sarà l'FOMC e potremmo vedere un cambiamento drastico nel prezzo sia in positivo oppure in negativo noi ci vediamo presto ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti